Pregate per tutte le persone in difficoltà, va bene? Allora direi che il santuario stai facendo? Ci siete? Sicuramente. E allora iniziamo... E allora iniziamo questo santo rosario affidando al cuore di Gesù tutta la nostra vita, tutte le nostre speranze, tutti i nostri sogni. O Dio, vieni a salvarmi. Signore, vieni presto in nostro aiuto. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo. Come era nel principio, ora è sempre, nei secoli, nei secoli. Amen. Por Gesù mio, perdona le nostre colpe. Preservaci dal fuoco dell'inferno. Porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose, della Tua divina misericordia. Nostra Signora di Casandrino, prega per noi. Grazie. 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 Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Bene, allora questa sera faremo uno strappo alla regola. Di per sé si dovrebbero pregare insieme i misteri del dolore perché è venerdì. Ma vogliamo ascoltare quello che lo Spirito ci suggerisce e questo è un tempo nel quale nonostante le difficoltà non dobbiamo lasciarci passare la voglia di gioire. Quindi pregheremo insieme i misteri della gioia, i misteri nei quali nel cuore dell'uomo è avvenuto un qualcosa di grande perché Dio si manifestava a loro e parlava a loro. E questi ragazzi questa sera insegneranno a noi che siamo più grandi a gioire di più per quello che abbiamo. A gioire di più per quante volte abbiamo avuto un dono a gioire di più. Per tutte quelle volte nelle quali abbiamo fatto pace con un fratello, con una sorella, abbiamo donato un sorriso, ci siamo abbracciati, abbiamo dimenticato tante situazioni brutte. A portare più gioia nelle case, c'è troppa tristezza e noi possiamo imparare guardando i più piccoli, guardando la loro spensieratezza, che non è superficialità ma è il modo giusto di vedere la vita perché il Signore così ci vuole. Troppa serie tra, essere troppo rigidi non va bene. Gesù aiutaci a gioire di più, aiutaci a godere dei tuoi doni. Nel primo mistero della gioia si contempla l'annunciazione dell'angelo Gabriele a Maria Vergine. L'angelo, entrando da lei, disse Rallegrati, piena di grazia, il Signore è con te. Ed ecco, concepirai un figlio, lo darai alla luce e lo chiamerai Gesù. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in te. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei la benedetta tra le donne, benedetta il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei la benedetta tra le donne, benedetta il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei la benedetta tra le donne, benedetta il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei la benedetta tra le donne, benedetta il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei la benedetta tra le donne, benedetta il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei la benedetta tra le donne, benedetta il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei la benedetta tra le donne, benedetta il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei la benedetta tra le donne, benedetta il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei la benedetta tra le donne, benedetta il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei la benedetta tra le donne, benedetta il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Storia al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, dei secoli, dei secoli. Amen. O Gesù mio, perdona le nostre colpe. Preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua divina misericordia. Donaci, santi sacerdoti, santi religiosi e santi laici. Madonna di Casandrino, prega per noi. Ecco, mi Signore, venga a te, mio nome. E se tu lo puoi, Signore, manda a me. Io sarò come tu mi vuoi, io sarò come tu mi vuoi, io andrò. Questa vita io voglio, io andrò. Questa vita io voglio, io andrò a te, mia vita gloria al tuo nome, mi vorrei, come tu mi vuoi, io sarò come tu mi vuoi, io sarò come tu mi vuoi.